e bello a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video ragazzi oggi in un altro video tutorial dopo tantissimo tempo vi faccio vedere ragazzi come avere tutte le applicazioni gratis su ios quindi su iphone come potete vedere io c'ho spotify di tutto gratis quindi raga posso posso sì posso tipo farvi vedere tutto funzionato ok funziona tutto quindi raga speciale bellissimo adesso ragazzi il link dovete scaricare due applicazioni questa di qua e questa di qua perché può essere che questa non funziona funziona l'altro la sua volta così quindi ragazzi avete bisogno di queste due applicazioni link sono in descrizione potete fare tutto direttamente dal vostro iphone o da tablet quello che avete voi dovete andare sul primo link e andare sul regular quello free e fare download now una volta fatto download now vi smunterà ecco come potete vedere queste qua voi cliccate su installa e lo installerà ecco dopo così pure con questa applicazione fate get the app e dovete ecco installare il tutto ok dopo aver installato queste due piccole applicazioni ragazzi vi faccio vedere un po andiamo su tuto helper questi siamo così tuto helper non so un botto di cose ragazzi ecco tipo si ci spunto un po di pubblicità a certe volte però tipo minecraft ragazzi visto che noi giochiamo a minecraft clicchiamo su get scaricherà il gioco adesso aspettiamo un po ok una volta che scarica naga dovete premere su installa andare nella vostra screen home schermata home che io non so parlare ragazzi quando registro solo non so parlare non so perché spero che questo tutorial vi sta piacendo perché ragazzi so che tantissimi di voi che avranno iphone vorrebbero non so ecco le musiche gratuite come le ho io o altre cose ok una volta fatto questo ragazzi il vostro gioco si sta installato adesso lo apriamo ok consentiamo ok e niente ragazzi funziona adesso vi faccio vedere crea mondo come si fa generazione casuale gioca ok creiamo subito un mondo ragazzi vi faccio vedere che funziona minecraft sul telefono ok funziona ragazzi funziona quindi queste sono le due applicazioni ragazzi adesso non so fate voi usatele a modo vostro potete anche scaricare da questa app qua adesso nell'altro non lo sono ancora visto bene potete da questa app potete scaricare se andate apps andate su hack and games potete scaricare i giochi già hackerati diciamo tipo con i soldi infiniti c'è pure pokemon go se qualcuno giocasse a pokemon go e niente non so per se volete tipo deezer o spotify dovete andare su tu hai anche da apps una cosa del genere e qua troverete ecco whatsapp plus plus cazze e matti ecco spotify e deezer niente ragazzi semplicemente cliccate sopra e installerete il tutto poi vi chiederà se un'applicazione non vi si apre vi chiederà di tipo garantirgli non ho capito bene non so adesso come si dice però comunque ragazzi dovete fare così un dato di impostazioni andate su dove cazzo sta andando su generali ok vaffanculo andate all'ultimo ragazzi su gestione profili e dispositivo ecco tipo adesso questo di qua dovete abilitare qua dovete fargli accedere dovete verificarlo ecco per farvi funzionare e niente ragazzi questo è tutto adesso io mi limino minecraft nel telefono perché non mi serve questo è tutto ragazzi spero il video vi sia piaciuto lasciate tanti like commentate se avete bisogno qualcosa e niente ragazzi ci becchiamo per questo video bello a tutti